benvenuti alla nostra prima pagina andiamo a conoscere i nostri argomenti non ce l'ha fatta il 29enne giovanni diamante coinvolto in un incidente autonomo sabato pomeriggio ha perso la vita dopo diversi giorni di agonia al cannizzaro di catania violenza sessuale dovrà rispondere anche di questo l'ex convivente di una donna che non ce l'ha fatta più dopo 11 anni di vessazione ha deciso di denunciare il tutto alle forze dell'ordine che hanno arrestato l'uomo diversi disservizi vittoriesi molti dei quali denunciati dai comitati preposti intanto arrivano anche denunce da parte di residenti per delle perdite più volte segnalate a scoglitti che adesso avrebbero dei reali riscontri come un amico ama si chiama così il videoclip da oltre 80 mila visualizzazioni che ha conquistato gli states ma che a sangue ragusano si racconta ai nostri microfoni l'autore è tutto per quanto riguarda la prima pagina mtg invece inizia tra qualche istante restate con noi in studio marco scavino ben trovati nuova edizione del nostro telegiornale in apertura torniamo a parlare della triste notizia che ha investito il territorio ibleo nella mattinata di oggi erano le 7 e 30 quando il cuore di giovanni diamante ha smesso di battere il 29enne è rimasto vittima di un incidente autonomo incontrato a papazza a scicli poi il ricovero d'urgenza mediante il trasferimento in elisoccorso al canizzaro di catania giovanni diamante il 29enne di san pieri vittima dell'incidente autonomo incontrato a papazza in territorio di scicli non ce l'ha fatta si è spento questa mattina all'ospedale di catania era arrivato al canizzaro in elisoccorso era sabato e il ragazzo si trovava alla guida della propria moto sulla strada che porta da scicli verso san pieri e cavadaliga sul posto la polizia municipale per i rilievi del sinistro allertato il 118 se capita da subito la gravità del caso e ne è stato disposto il trasferimento immediato al trauma center trasportato da contrada papazza all'area artigianale di contrada zagarone il giovane è stato trasportato d'urgenza al nosocome etneo dove è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata questa mattina il suo cuore non ce l'ha fatta più e si è fermato alle 7 e 30 giovanni era un ragazzo molto conosciuto e voluto bene dalla comunità non solo dove resideva ma anche tra i giovani discicli per oggi era stato organizzato un momento di preghiera a cavadaliga per mostrare vicinanza appuntamento che viene adesso confermato per pregare per l'anima di un giovane felice e sempre sorridente così come lo ricordano gli amici alle 19 nella chiesa di cavadaliga la comunità si raccoglierà in preghiera per questa nuova troppo giovane vita spezzata su strada continuiamo a parlare di incidenti stradali che hanno avuto un epilogo drammatico torniamo infatti a parlare della storia dell'ottantenne vittoriese travolto da un'autovettura perché sono stati diffusi gli esiti delle analisi a cui è stato sottoposto il conducente dell'autovettura per stabilire se fosse alla guida sotto effetto di droga o alcol hanno dati o esito negativo gli esami a cui è stato sottoposto il 35enne che si trovava alla guida dell'auto che ha investito domenica pomeriggio in via cavalieri di vittorio veneto a vittoria all'ottantenne morto dopo essere stato ricoverato al guzzardi in prognosi riservata ignazio straquadaino aveva riportato delle lesioni gravissime purtroppo non ce l'ha fatta il guidatore era stato sottoposto a degli esami di routine per rilevare eventuali tracce di alcol o di sostanze psicotrope per escludere che si trovasse alla guida sotto l'effetto di qualcosa è stato l'uomo a fermarsi da allettare i soccorsi resosi subito conto della gravità della situazione collaborando con la polizia municipale giunta sul posto il suo veicolo è stato sequestrato così da prassi secondo l'articolo 589 bis del codice penale sono stati fatti tutti gli atti giudiziari ha detto la polizia municipale che abbiamo sentito questa mattina sarà adesso il magistrato a valutare dopo che la dinamica sarà chiara infatti la dinamica è ancora al vaglio della polizia municipale per accertare le responsabilità del 35enne un ragusano è stato arrestato perché in trasferta a siracusa malmenato degli avventori di un bar ubriaco inizia ad aggredire e picchiare degli avventori dello stesso bar dove si trovava protagonista un ragusano di 29 anni in trasferta però a siracusa dove è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale lesioni e danneggiamento aggravato si tratta di mario d'ambrogi disoccupato di 29 anni con precedenti il giovane senza alcun plausibile motivo dopo aver assunto alcolici verosimilmente in stato di alterazione psicofisica così come si evince dal racconto dei carabinieri ha aggredito avventori con calci e pugni le vittime due malcapitati hanno riportato traumi e lesioni subito raggiunto dai militari dell'arma intervenuti a seguito della richiesta delle vittime tramite il numero unico il 112 hanno tentato di bloccarlo ma il ragazzo si è divincolato in modo energico cercando di scappare dopo poco è stato bloccato identificato e accompagnato nei locali del comando compagnia dei carabinieri di siracusa e detenuto presso la camera di sicurezza gli effetti dell'alcol e lo stato di forte agitazione non gli hanno permesso però di tranquillizzarsi anzi dopo aver proferito frasi offensive contro i militari che cercavano in vano di calmarlo ha sferrato un violento colpo a palmo di mano aperto contro il vetro dello spioncino della porta d'ingresso danneggiandolo e cagionandosi una abrasione alla mano sinistra medicata dai sanitari del 118 chiamati dai carabinieri solo dopo alcune ore i militari sono riusciti a riportare la calma e il giovane dopo le formalità di rito è stato trattenuto e debitamente vigilato presso la camera di sicurezza del comando della compagnia dei carabinieri di siracusa per poi essere trasferito nella giornata di oggi al tribunale di siracusa per l'udienza di convalida così come stato disposto dall'autorità giudiziaria una donna di 55 anni dopo 11 anni di silenzio ha deciso di denunciare il suo aguzzino a santa maria di licodia nel catenese un non cinquattottenne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia lesioni personali aggravata e violenza sessuale aggravata commessi nei confronti e l'ex convivente una donna di origine rumena di 55 anni la donna per 11 anni è stata sottoposta a stevizi e sopprusi che ne hanno minato la tranquillità psicologica e più volte purtroppo anche l'integrità fisica i due avevano avuto anche un figlio che si univa ai figli avuti da entrambi in precedenti relazioni proprio uno dei figli di lui spalleggiava il padre e costringeva la donna a lavorare nei campi e badare agli animali segregandola per dormire addirittura in un garage privo di aperture l'uomo inoltre pretendeva la pensione che la donna percepiva per il figlio autistico spesso le diceva che l'avrebbe accoltellata se non avesse consegnato i soldi la donna però non trovava il coraggio di denunciarlo un anno fa si è anche allontanata da casa ma l'uomo in un'occasione aveva tentato di sfondare con un picco nella porta dell'abitazione a questo punto la donna ha trovato la forza di denunciare ai carabinieri ha raccontato come spesso l'uomo le abbia lanciato oggetti contro o l'abbia costretta rapporti sessuali minacciandola con un coltello in un'occasione l'uomo avendo trovato la porta d'ingresso aperta e la casa dove si era trasferita la donna si era introdotto e si era nascosto sotto il letto per poi colpirla alle spalle provando a soffocarla con un cuscino svenuta la donna l'uomo la rianimata chiedendole la possibilità di ritornare insieme grazie a tutti questi indizi il giudice ha deciso per la reclusione in carcere è iniziato il processo exit poll ieri l'udienza preliminare l'accusa ha chiesto due anni per l'ex sindaco di vittoria giovanni moscato è iniziato il processo exit poll ieri l'udienza preliminare al tribunale di catania davanti alla gup stefano montoneri la pubblica accusa ha chiesto la condanna due anni per corruzione elettorale dell'ex sindaco di vittoria giovanni moscato e di un anno del consigliere comunale del pd francesco cannizzo chiesto il rvia giudizio per gli altri imputati tra cui l'ex sindaco di vittoria giuseppe nicosia e il fratello fabio nicosia è stato possibile per l'accusa fulmunale la richiesta perché moscato e cannizzo hanno chiesto il rito abbreviato gli avvocati trantino e pietra rossi difensori di moscato e l'avvocato seminara difensore di cannizzo hanno chiesto la soluzione perché il fatto non sussiste mentre per gli altri otto imputati che hanno scelto il rito ordinario i difensori hanno chiesto il non luogo a procedere il gruppo si è riservato di decidere e aggiornato l'udienza al prossimo 28 ottobre moscato contattato da noi ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo lo scorso 18 settembre aveva affidato alla sua pagina facebook la propria reazione in occasione della sentenza di non candidabilità emanata dal tribunale di ragusa in merito alla verifica dei presupposti per dichiarare l'incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del comune di vittoria avvenuto lo scorso anno in relazione alla proposta avanzata dal ministero dell'interno lo scorso luglio del 2018 una decisione che rammarica e ferisce per chi come me ha sempre agito nella legalità e nel rispetto delle leggi aveva scritto moscato rammarica perché sul presupposto di un'indagine è stata presa una decisione iniqua moscato aveva scritto di attendere con fiducia la data del 30 settembre quando finalmente diceva ci sarà una pronuncia della giustizia penale sul proprio operato a questo punto attenderemo l'esito del processo parliamo adesso di infrastrutture delle grandi e importanti novità a cui potrebbe andare incontro l'isola perché si è tenuto un importante incontro tra il vice ministro giancarlo cancellieri del movimento 5 stelle e il presidente della regione nello musumeci l'agrigento cartanissetta la ragusa catania e la siracusa gela sono state le infrastrutture al centro dell'incontro ieri pomeriggio tra il vice ministro alle infrastrutture giancarlo cancellieri il governatore della regione nello musumeci alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture marco falcone per agrigento cartanissetta detto cancellieri i cantieri stanno per ripartire e dentro la fine dell'anno potranno essere completati sette chilometri di strada il prossimo 9 ottobre è stato convocato un tavolo tecnico a roma per cercare di sciogliere alcuni nodi ha detto il vice ministro per quanto riguarda il raddoppio della ragusa catania si aspetta la valutazione dell'ordine degli ingegneri di roma entro la fine di quest'anno il cipe ci dovrà dire se quel progetto è valido e si può presentare in caso di risposta positiva già da gennaio prossimo potremmo avviare una nuova fase che vedrà protagonista anche la regione l'anas per la messa a bando e la costruzione di un'opera che si aspetta da anni capitola parte invece per la siracusa gela detto cancellieri abbiamo parlato della possibilità e su questo faremo il punto con l'assessore falcone e anas nazionale per aggredire i tempi di realizzazione dell'opera e capire se c'è la volontà da parte di anas ad aprire i cantieri anche sul versante di gela su questo voglio coinvolgere direttamente il ministro De Micheli ha concluso il vice ministro abbiamo anche parlato di possibili nuove infrastrutture che si possono realizzare nel nostro territorio perché con un occhio e mezzo attenti a quelli che sono i nodi del passato alle criticità ma con il rimanente a invece programmare nuove infrastrutture che possono essere realizzateci soddisfatto dell'incontro il presidente della regione nello musumeci le infrastrutture hanno bisogno di tempi veloci e su questo che ci siamo confrontati e continueremo a farlo nelle prossime settimane nella consapevolezza che avere un al governo un vice ministro alle infrastrutture che è anche siciliano che conosce i problemi della sicilia io credo possa diventare per noi un interlocutore importante e prezioso cambiamo argomento torniamo a parlare degli sfratti dello sfratto nello specifico che ha colpito un padre e un figlio della città di modica ancora non sono riusciti a ritirare i propri effetti personali la vicenda e ha avuto una ribalta mediatica davvero notevole perché è diventato un caso nazionale questa storia di modica una storia modicana che abbiamo raccontato nelle precedenti edizioni del nostro telegiornale si tratta di un padre che si è visto recapitare un sms whatsapp che gli gli comunicava che la casa dove aveva vissuto con il figlio sino a un minuto prima oramai non era più sua e gli era stata tolta ovviamente il padre sapeva di averla persa alle aste giudiziarie ma non pensava ad uno sfratto del genere non ha ancora potuto prelevare i propri effetti personali da quella che una volta era la propria abitazione il padre modicano assistito dall'avvocato salvatore poi domani è ancora nel limbo in questi giorni infatti è in corso un confronto con il custode giudiziario per concordare l'ingresso all'interno dell'abitazione per poter riprendere tutto ciò che è suo il padre modicano lo ricordiamo è stato investito da una pratica di esecuzione di sfratto tutt'altro che serena alla pesantezza del dover lasciare la propria abitazione si è aggiunta la mancanza di comunicazione della privazione dell'immobile il padre infatti era fuori casa ed una volta rientrato ha trovato sul portone di quella che era la sua casa persa per un debito con una banca un cartello che comunicava che la casa era posta sotto sequestro oltre il cartello il cambio di serratura che ha impedito al padre di poter raccogliere i propri effetti personali e i ricordi che la abitazione custodiva poco dopo su whatsapp ha comunicato quanto già scoperto prima una storia brutta anche perché tra i protagonisti ha un bambino di poco più di dieci anni che si è visto privato dei propri libri e quaderni di scuola dei propri giochi dei propri indumenti l'avvocato poi domani ha evidenziato che è una svolta comunque vicina e che è questione di pochi giorni e sicuramente padre e figlio rientreranno in possesso dei propri beni in queste ore infatti il custode giudiziario e l'ex proprietario dell'immobile stanno trovando un accordo sulle modalità e i tempi è tutto in stand by in riferimento al movimento 5 stelle di modica e alla polemica che sta dividendo da una parte il meet up e il laboratorio a 5 stelle ce ne parla veronica puglisi si attende ancora che il collegio nazionale dei propri viri si esprima sulle segnalazioni fatte dal consigliere comunale di modica marcello medica a seguito della presunta rottura che si è venuta a creare all'interno del movimento 5 stelle nelle scorse settimane i cittadini modicani hanno assistito ad un botta e risposta tra il laboratorio 5 stelle tra cui rappresentanti figura carlo cartier candidato a sindaco nell'ultima tornata elettorale e il movimento 5 stelle gruppo ufficiale così come è stato definito e il cui portavoce è il consigliere medica la cherella è nata a seguito della richiesta da parte del laboratorio delle dimissioni di medica dalla carica di consigliere accusato di non attuare un'adeguata opposizione nei confronti dell'amministrazione comunale un mistero la presenza di un meet up 5 stelle che ha difeso l'operato di marcello medica la cui esistenza è stata messa in dubbio da cartier l'esponente del civico consesso risponde all'accusa del laboratorio 5 stelle il sito con la piattaforma meet up non esiste più dal 2017 ma esiste il gruppo ufficiale del movimento 5 stelle con circa 25 attivisti e più di 300 simpatizzanti sono pronto al dialogo ha ribadito e non sono contrario all'esistenza di gruppi al di fuori di quello ufficiale ho segnalato il caso ai propri viri solo perché non si rispettano le regole c'è stato un dialogo ma il dialogo è stato interrotto con la richiesta di sfiducia avanzata nei miei confronti ha detto medica intanto i cittadini attendono l'evolversi della vicenda e i comunicati a firma dell'uno dell'altro acquiscono la confusione cosa accadrà adesso all'interno del partito quali saranno le ultime mosse nella scacchiera del panorama politico non ci resta che aspettare la nostra città sta vivendo uno tra i momenti più brutti della sua storia così il comitato spontaneo che si è costituito e che ha organizzato a vittoria ieri un incontro istanze proposte dei cittadini vittoriesi ieri sera al centro di un incontro per vagliare tutti i problemi della città motivo per cui si è costituito un comitato spontaneo di difesa della città vittoriese durante l'incontro è stato sottolineato come la città sia carente in tanti settori vitali per la comunità cittadina in questo momento è stato detto l'assenza totale di referenti politici non consente di inoltrare reclami richieste o proposte la riunione di ieri sera infatti è servita a raccogliere le istanze e le proposte per migliorare la qualità della vita dei vittoriesi coinvolgendo più cittadini possibili per poi andare in delegazione ad un incontro con i commissari ai quali attenzionare ai problemi primo tra tutti quello igienico ambientale che sta vivendo la città i vittoriesi dunque è stato puntualizzato non sono disponibili a fare orecchie da mercante e così si è dato vita ad un movimento spontaneo individuare proposte, risorse, metodi e mezzi per poter finalmente rilanciare questa città che vive uno dei periodi più bui della propria storia e questo movimento intende incontrare le varie istituzioni a cominciare dai commissari di Vittoria dal commissario provinciale, dal direttore dell'ASP e dalla deputazione regionale che è stata invitata tutta quella dell'arco costituzionale della nostra provincia in modo da fare ognuno la propria parte per dare finalmente possibilità a questa città di rilanciarsi e di risollevarsi da questo problema i progetti della città già sono in gantiere da parte delle istituzioni noi avremo il compito semplicemente di sollecitarle uno fra tutti il famoso lungomare di Scoglitti che era quasi lì per partire ma che invece ancora sembra fermo al palo ecco vorremmo essere da stimolo per tutte queste cose per questo e per tante altre cose Restiamo in territorio vittoriese ma raggiungiamo il mare andiamo a Scoglitti con Giada Giacquinta per andare in via Franco Martelli e via degli Oleandri dove verrà riparata dopo anni una persistente perdita idrica Finalmente dopo tanti anni d'attesa è stata trovata una soluzione per sanare la perdita d'acqua in via Franco Martelli angolo via degli Oleandri a Scoglitti così come potete vedere dalle nostre immagini il continuo fluire dell'acqua ha rovinato l'asfalto ci sono delle buche, una strada molto trafficata passano tante auto soprattutto d'estate finalmente dopo anni in cui i residenti hanno cercato di far sentire la propria voce è stata trovata un'intesa tra il proprietario e il privato perché il terreno in cui si trova la sorgiva è un terreno privato il comune di Vittoria, quindi Palazzo Iacone, i commissari e l'Enel perché interverrà l'Enel installando un contatore dell'acqua per far sì che tutta questa acqua non vada perduta e venga in qualche modo raccolta l'idea liberale ha accolto le denunce dei residenti si è fatta portavoce e ha comunicato che a giorni verrà sistemata la situazione intanto i residenti ci hanno raccontato cosa è successo in questi anni e in cosa consiste il loro disagio ho fatto svariate segnalazioni a tutti gli enti in passato anche raccolta firme per poter impedire e poter risolvere questa situazione e sembra che si stia muovendo un po' la situazione e speriamo nel più breve tempo possibile perché onestamente ormai sono 7-8 anni che c'è questo problema dove qui anche ho notato che per tutto l'anno nel periodo estivo passano molte roulotte perché forse il tontomo gli dà questa strada che è diventata un'arteria abbastanza importante e trafficata quindi capito il pericolo che gli automobilisti sono costretti ad affrontare Malissimo, siamo combinati malissimo e ora non piove, appena pioverà siamo qua rovinati proprio chi lo sa rallenta, chi non lo sa spesso la prende a velocità ma anche motorile, ma tutto purtroppo è brutta la situazione, speriamo che cambia qualcosa Entro la fine dell'anno l'apertura del Museo Etnografico a Palazzo dei Marcedari Nonostante sia una delle attrazioni più interessanti di modi che il Museo Etnografico delle Arti e delle Tradizioni Popolari che si trova all'interno del Palazzo dei Marcedari non è usufruibile e tanti turisti che in questi mesi hanno affollato la città dalle cento chiese il museo era stato allestito nel 1978 e racchiude le bellezze e le tradizioni popolari modicane ad oggi però i lavori di consolidamento del Palazzo dei Marcedari sono bloccati dopo che una società che ha partecipato al bando aveva presentato ricorso contro la giudicazione della gara d'appalto così i tempi si sono allungati e la regione nel 2015 si è ripresa le somme che erano state stanziate per la realizzazione dell'ultima tranche dei lavori che avrebbe consentito la riapertura la denuncia arriva dal coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Emanuele Cavallo che chiede all'amministrazione comunale di risolvere il problema una corsia privilegiata per riconsegnare ai cittadini e ai turisti un luogo così importante contattato da noi telefonicamente il sindaco Ignazio Abate fa sapere che il museo sarà aperto entro la fine del 2019 in quanto i lavori che riguardano l'impianto di illuminazione e l'arredamento saranno completati con i fondi dell'agenda urbana per un totale di 500.000 euro lavori che riguardano sole e pian terreno dunque entro tre mesi il museo etnografico delle arti e delle tradizioni popolari potrà ritornare ad essere fruibile da parte dei cittadini e dei turisti pubblicità tra poco diversi gli interventi che verranno messi in campo per tutelare la playa di Catania per scongiurare in futuro situazioni emergenziali a gestire il tutto sarà la protezione civile ce ne parla Sara Donzuso Mettere in sicurezza l'aria della playa anche alla luce e l'incendio che l'ha colpita quest'estate lo prevede un non piano ad hoc della protezione civile che mira soprattutto a scongiurare il rischio che con la prossima stagione balneare possano verificarsi i fatti emergenziali da cui la necessità di definire un non programma che comprende gli interventi strutturali per il quale il comune di Catania dovrà acquisire la conformità urbanistica e interventi di bonifica e prevenzione che saranno dettagliati nel corso di singoli incontri con gli organismi responsabili in particolare nel corso di una riunione che si è tenuta presso la protezione civile si sono individuate nuove vie di fuga che alleggeriscono il carico del viale Kennedy la creazione di aree di parcheggio e l'esigenza di dotare l'aria di bocca di approvvigionamento idrico per le unità dei vigili del fuoco saranno inoltre avviati diversi interventi non strutturali per aumentare la sicurezza dei fruitori della playa come ad esempio il censimento degli alberi d'alto fusto la ricognizione delle aree abbandonate per provvedere alla pulitura dei luoghi la creazione durante la stagione estiva di due presidi uno con volontari di protezione civile e l'altro con vigili urbani tra le azioni coordinate con il Dipartimento e la regionale la protezione ambiente vi è anche la realizzazione di punti raccolta per l'evacuazione attraverso il mare con mezze della Capitaneria di Porto sicuramente prima della prossima stagione dovrà essere sarà realizzato un piano di emergenza concreto con delle misure concrete individuando concretamente chi sono i soggetti che devono intervenire e cosa devono fare e questo è l'impegno principe che ci siamo assunti direttamente come protezione civile seguendo le indicazioni del Presidente della Regione al contempo si stanno individuando una serie di soluzioni strutturali per far fronte a delle problematiche specifiche che si sono manifestate in occasione degli incendi quale il problema della viabilità quindi cercare delle soluzioni che consentono praticamente un deflusso dal viale Kennedy alternativo La Regione trasformerà l'ospedale Vittorio Emanuele di Catania in un grande polo museale restituendo al plesso il suo antico valore storico-culturale L'ospedale Vittorio Emanuele diventerà un polo museale è stata siglata infatti la convenzione che sancisce il trasferimento del presidio ospedaliero di Via Plebiscito a eccezione del plesso Costanza Gravina dall'amministrazione dell'azienda sanitaria policlinico Vittorio Emanuele San Marco alla Regione Siciliana La struttura adiacente al complesso monumentale dei Benedettini che ospita alcune facoltà all'Università di Catania e la storica biblioteca Orsino Recupero nel quale il capoluogo Ettenneo verrà restituita alla sua originaria bellezza per diventare la più grande area museale al coperto della Sicilia orientale Dopo la delibera della giunta regionale lo scorso 4 settembre infatti l'iter si arricchisce di questo nuovo passaggio La convenzione ha la durata di 40 anni con la possibilità di rinnovo la regione provvederà alla demolizione di alcuni edifici e manufatti in ogni pregio restituendo al complesso e quindi alle zone limitrofe la loro conformazione originaria e riqualificherà gli immobili storici che diventeranno sede del polo museale Celebrazioni ieri a Sampieri per ricordare lo sbarco del 30 settembre del 2013 dove persero la vita 13 migranti sulle coste Era il 30 settembre 2013 quando durante un tragico sbarco persero la vita 13 migranti davanti il litorale di Sampieri una data rimasta indelebile nella memoria collettiva l'immagine dei loro corpi adagiati sulla riva riporta alla mente tutto il dolore per quella tragedia immane Nel giorno in cui ricorre l'anniversario la comunità della frazione balneare e le varie associazioni hanno dato vita ieri pomeriggio ad un momento di riflessione di testimonianza, di preghiera Durante le celebrazioni è stato proiettato un video toccante e commovente l'occasione per non dimenticare ma anche per riflettere ad intervenire Graziano Cascone che per anni ha prestato soccorso agli immigrati a bordo delle unità della Guardia Costiera proprio Cascone ha ideato e donato una scultura in legno in memoria di quanto accaduto Quest'opera ha qualcosa di particolare perché questo mezzo uomo che poi andiamo a vedere è ricavato con un'asse di una barca usata dagli immigrati per arrivare fino a qua e metà perché quella metà che è partita è quel mezzo che non si vede è quella metà che non è mai arrivata che si è persa nell'oblio che viene dimenticata spesso da chiunque alla base a parte la dedica una poesia sul legno che dice io sono il legno della tua culla e alla fine dice ti accompagnerò per sempre perché sono il legno della tua bara fa pensare che questo legno che doveva portarlo alla vita una vita migliore invece per la fine l'ha accompagnato purtroppo alla morte Un momento di ricordo e di preghiera ha ribadito padre Giuseppe Agosta parroco della chiesa di San Pieri e di Cava Dalica Questo momento rappresenta per la borgata di San Pieri un momento significativo un momento anche di ricordo ma anche e soprattutto un momento di preghiera infatti nelle nostre iniziative oltre a quella che stiamo vivendo ora c'è stata la deposizione dei fiori preceduta da un momento di preghiera e di affidamento al Signore per le 13 vittime dei ritrei che durante lo sbarco hanno perso la vita Ad intervenire anche Francesco Sciotto pastore della chiesa metodista di Scicli Siamo qui per ricordare perché non dobbiamo dimenticare chi ha perso la vita cercando di attraversare il mare lo facciamo leggendo delle cose lo facciamo vedendo dei video lo facciamo anche sperando che il nostro mare e le nostre spiagge siano luoghi di accoglienza Come un amico ama è il video del nuovo singolo del tenore italiano Jonathan Cilia Faro artista internazionale di origine ragusane emigrato in America una vecchia conoscenza del nostro gruppo editoriale perché alla fine degli anni 90 fu ospite anche di una nostra trasmissione ha ottenuto già 80.000 visualizzazioni su internet il video del nuovo singolo Come un amico ama del tenore italiano Jonathan Cilia Faro un grande successo per l'artista internazionale di origine ragusane emigrato in America dove ha raggiunto il successo e la notorietà il video estratto dal suo ultimo album From Now On è stato realizzato a Ragusa con un cast di artisti ragusani a dirigere il progetto il regista Emiliano Tidona professionista ragusano scelto da Cilia in quanto amico e compagno di viaggio artistico l'amicizia la nostalgia del passato l'amore per la propria terra sono i temi che ruotano attorno ai tre protagonisti tre fasi della vita dove passato e futuro si intrecciano Cilia è stato uno dei premiati all'ultima edizione della Kermess Ragusani nel mondo nonostante la lontananza sente forte il legame con la sua terra una tra le sue prime apparizioni TV fu nell'emittente video mediterraneo nel 96 la sua realizzazione professionale arriva oltreoceano soddisfatto del progetto il regista Emiliano Tidona è un video che nasce proprio come voglia di tornare a casa tra virgolette un ritorno alle origini Jonathan è un artista internazionale che ha avuto un successo incredibile soprattutto all'estero anche se qua magari è meno conosciuto di altri e ha deciso proprio di girare il suo nuovo video come un amico ama nel territorio di Ragusa prendendo dei talenti ragusani tra cui io e l'attore Franco Giorgio attore e regista Franco Giorgio quindi sono particolarmente fiero di aver contribuito un attimino a valorizzare il mio territorio il video è girato totalmente tra le campagne ragusane e Ragusa Ibla i due protagonisti sono insieme ovviamente a Jonathan un bambino che rappresenta la nostalgia del passato e Franco Giorgio che invece rappresenta la speranza per il futuro tra i protagonisti del videoclip l'attore e regista ragusano Franco Giorgio Jonathan è nato con me diciamo nato con me nel senso che a 11 anni quando lui era in prima media è venuto al laboratorio teatrale che io tenevo e ha cominciato i primi passi sul palcoscenico da lì poi però già a quell'età ha già un vocione che poi si è visto negli anni a cosa l'ha portato è tutto grazie per averci scelto buon proseguimento grazie per averci scelto